Buongiorno a tutti, sono Federico Longhini, il direttore dell'anestesia di animazione di Germaneto e Catanzaro. Volevo ringraziare la ONLUS Emergenza Sorrisi per la donazione, la raccolta fondi di donazione che è stata fatta di dispositivi di protezione individuale presso la nostra struttura. Ritengo che questa donazione sia molto importante in quanto innanzitutto per poter curare i pazienti coronavirus positivi è importante che gli operatori sanitari siano sani e quindi siano protetti per poter lavorare nelle migliori condizioni. Grazie veramente. Io sono Ludovico Abelavodi, sono socio di Emergenza Sorrisi, nonché professore di gastroenterologia qui presso l'Università Magna Crescia di Catanzaro. Emergenza Sorrisi è da sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno e quest'oggi si è resta disponibile a questa raccolta fondi e per questo la ringraziamo ancora di più perché noi in questo ospedale, in questa realtà, abbiamo ancora più necessità per i grandi numeri che stiamo realizzando. Grazie ancora.